Nella stanza di una modesta pensione di Parigi, Oscar Wilde trascorre gli ultimi giorni della sua vita e come in un vivido sogno i ricordi del suo passato riaffiorano trasportandolo in altre epoche e in altri luoghi. Non era lui un tempo l'uomo più famoso di Londra? L'artista idolatrato da quella società che l'ha poi crocefisso? Oggi Wilde ripensa con malinconia alle passioni che l'hanno travolto e con tenerezza al suo incessante bisogno di amare incondizionatamente. Rivive la sua fatale relazione con Lord Alfred Douglas e le sue fughe attraverso l'Europa ma anche il grande rimorso nei confronti della moglie Constance e per aver gettato lei e i loro figli nello scandalo dopo l'estrema condanna per la sua omosessualità. Ad accompagnarlo in questo ultimo viaggio è solo l'amore e la dedizione di Robbie Ross che gli resta accanto fino alla fine nel vano tentativo di salvarlo da se stesso e l'affetto del suo più caro amico Reggie Turner. È il film The Up Prince in programmazione al cinema milieu dal 12 al 17 aprile con spettacoli alle 18.30 alle 21.30. Nel corso della stessa settimana saranno proiettati 4 Chuck, la scuola al centro, Pasta nera, 2 Sicilie e My Name is the deal. Per tutti gli altri film consultare le schede di programmazione nel sito internet cinegatti.it